Non si potrebbe, ma... Stare attento. Ma tu dici che non hanno speculato... Eh no, no, c'è sta. Cioè, non è finita neanche una. Quindi questa è una mostra sull'economia. Invece in Germania... Eh ma perché qui c'è il sistema garantito, eh? Che risponde la... La Banca d'Italia. Vedi che c'è? Sì, sì. Vedi che c'è il sistema garantito. 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 Grazie.